Questa me l'ha fatta insegnare il papà, però la suonava il nonno, quello non lo so, però il nonno sono sicuro che mi diceva che io voglio insegnare questo valse che faceva su il nonno. Perché le otto campagne le ha messe? Le otto campagne sono del 40, 45 insomma, 800. Dopo però mio nonno la suonava su perché le campanine, quelle di vetro, la suonava su, quella lì da 10, perché sul campanile non si poteva farla. Alla prossima. 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 L'ho fatta la prima volta, avevo 10 anni, ma erano 79. Quindi tu 36, 36? 26. L'hai fatta a 36, eh? 36, 36 ecco, 26, 36. Che dopo la guerra all'Africa? Andai so prima a me con mio papà, faceva campanare, mio papà, andai so prima a fatta come suonare. Dopo invece c'ho la prima che ho imparato, perché al nostro tempo mi ho campato all'Africa, e dopo la guerra le dite campane. E ora ho imparato una semplice, ma che mi ha fatto imparare, mio padre, la prima proprio che ho peccato. C'è tassi insomma. Quella, quella che forse aveva otto anni, proprio il nonno. E prima a me il bisnonno, suonale, suonale, bisnonno. Mio papà era del 92, 1892. Mio nonno era del 58. E pensi, mio bisnonno sarà stato... Sì, tra i vecchi e i treni. Sarò stato da Eccoli avvinto il 30. Ottocento. Due, due basta, eh? Sì. Viscaldi. Poi. Du, due, diciamo, insomma. Sì. Poi. Sì, l'ultima. Sì. Sì, l'ultima. Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.